bentornati qui con questo nuovo episodio è il primo di test di superamento e soprattutto z perché questo vecchio che schiazza da ridere e rimane senza parole invece se sta zitto non reagisce nemmeno risulta no ma è stessa beccata ho dovuto rifare almeno due volte questa per farla bene speriamo che questa volta la facciamo bene mamma mia arriva una prestanata vediamo adesso che fai crei lì che sarà vista brutta vabbè mi prepara questa bella la vedo è brutta quindi bianco pure se l'avete vista brutta ma giusto il primo era gli altri questo era il terzo ultimo senza la barbetta che cacchio dai beccati questa baffina beccati su questa bella botta rete attenta alle spalle e no questo è tosto alla fine ci stanno sempre tutti torti e nemmeno la velocità mi aiuta dopo eh allora piccama c'è sta zetta piccama c'è sta z e è alla faccia e che devo fa e che devo fa ammazzarmi per caso beccati questa beccati questa beccati questa junior una volta ha riso vediamo quanta zuppetta mi sono pigiata vabbè e continuiamo con la prossima che qua ho dovuto rifare un bel po' di volte pure l'altra andiamo dritto lì perché già l'avevo fatta in precedenza e ora la rifaccio con sto medio beccati questa scusa gohan e guarda tu vecchio stai ancora parla a caio guarda io sono già partita raffica e invece questo non mi calcola proprio e beccati questa in ritardo oh oh sta buono buono ragazzino sta buono deve andare a dormire anzi che sta sveglio eh oh ho fatto un retrovalcio ho fatto un retrovalcio ha fatto peccato che qua non parlano proprio becca di questa mi piace radish ma qua te la vedi brutta te lo dico io ho dato un po' tentativo di attaccarli questo napa è il pelato mi sembra che dovrei peccato che i napa non l'hanno scompato bene avevo finito che radish sopra i vesti invece napa non ne era degno nemmeno di allacciare le scarpe vegeta peccato che Toriyama l'abbia fatta ammazzare a radish non vero peccato becca di questa manca mai attaccato pazzo oh oh vegeta con quella sui no questa mi rovina proprio assoluta sto vegeta eh te lo dico eh no bello non si fa così tu sei pazzo no per favore vegeta non così non così nooo mo basta ma hai rotto ok mi stai rompendo basta questo è proprio scassa ombrella sto vegeta è scassa ombrella stavo proprio dai dai non darmi una S non darmi una A non darmi una C ah va bene questa si perchè questa S la odio perchè senza pigliare la Z non andiamo avanti con il test finale mi serve quello che mi serve il test finale becca di questo a Dodoria meglio non dargli il tempo di attaccarsi no questo Dodori ci fa il culo ehi Dodori questa testata con quei puntaspidi che c'hai in testa e fai proprio male eh becca di questa mi vedi un po' eh dai vediamo se riusciamo a beccarlo dai vieni 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 becca di questa no zarbon zarbon per favore beh accuccia dinosauro questo è un rettile ok vediamo un po' se riesci a beccare un'altra bella botta oh dai io mi preparo alla faccia nooo ti sei iniziato a ridere hai iniziato a ridere vecchio caio sto vecchiaccio ah eh no questa non ci voleva vediamo c'è sta sfera perchè questa è la mia preferita per un momento dai eh no piglio questo in faccia sfera e poi ridere e tosto ve lo dico i più tosi vanno sempre alla fine eh no questa mi sta proprio scassando e basta per favore PRISE ma che diale tu puoi sono dalla toalanta ma che vuoi fare ammazzarmi sta buono Vieni, vieni Vieni E no Oh no Se l'ha evitato E no Sta facendo un bacio No Sto Io la legno Basta Se ne può più Mi piace Ma i fai di cazzare proprio Cavolo Se mi dana E Anche per questo Cavolo O una A Mincavolo Meglio una Z Perché prima aveva dato una S Una A Una S Una B Una A Una S E che di altre volte l'ha già fatta Questa è la quarta Ma sta andando buona Testo avanzamento caio Un altro becco slag Questa me la pari Tu sai che ci fai qua Perché dovrei imparare da slag Le mosse Becco di questa slag E' bello tosto Questo qui Ma sta andando se è tosto Ci vediamo tra poco E guardate le spalle Guardate le spalle Bello Oh 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 C'è 18 Ma c'è 17 Non c'è sta Eeeh Sta Allontanati C'è 18 Sta Tranquilla E' no Questa starrafica A rotazione No Dai Dovresti Alleati con il Contro Sare Invece tu Vuoi ammazzarmi Vabbè Che di questa Andiamo Oh E così Se può andare No Questo non va bene E no Peccato che non riesco mai a fare A min tempo O quasi O quasi Beccati questa Ma che genio 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 Vabbè Ora basta Ma non sta Lo sta Esagerando Eh no Questo non va bene Questo non va bene Sta buono Allontani Già mi ha dato un'esbole qua Ve lo dico Due Tre voti Ma ha dato un'esbole Quattro Se questo va bene Va bene Che di questa Scusa Perché voglio allenarmi Eh E no Ok Le costrucce sprecate Bene Pregiamo un po' Al massimo E no Cavolo Avete tutto Mettere una contromosa Contro quella Eh no Eh no Edda Ma che scopione questo Questo è un copione Oh Becca di questa Pugno di dio Ora è il controattacco divino Eh sì Magari Tensì Mi dispiace E speriamo di andare Avanti Dai Andiamo avanti Con questa Abbiamo fatto Con questa abbiamo fatto Sto il meno Ragazzi Questa è un'altra Già Già mi aveva dato Almeno 6 S Qua Eh 3 volte 6 volte L'ha già fatto Alla 6 Mi è andata buona E' andata buona E' andata buona E' andata buona E' andata buona Mamma mia Ma c'è 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 Starless Ok basta Iniziamo a trasformarci Bene Ho costumato tutto L'ultimo è un Sò duro Ve lo dico Dai dai Videl E' bella tosta Ve lo dico Eh no Così no Allontanati Bella E' fussa via Cosa E' troppo addosso Davvi un po' di tregua Che diamine Ma mi date un po' di tregua Se lo cambia Ma state un battibaleno Diamine Ti do un po' di respiro Per favore E che cacchio Altre botte E altre bestemmie Eh no Sembra una cosa di janemba Ve lo dico Sembra una cosa di janemba Ve lo dico Vedete Sembra più della rezza freezer non so più un miscuglio tra Kaioshin e rezza freezer eh no, questo Goten mi sta proprio a rompere le scale ma quanto sei odioso, Goten beccati questa alle spalle eh no, addirittura il Super Saiyan 3 eh no, beccati questa eh no ma che diametro, la stavo preparando e mi ha tolto proprio il divertimento questa me la paga per non per non far scendere il nostro punteggio eh no, pure questa me l'ha distrutta ok, mi servirà una bella contramostra la prossima volta oh ah quanto, sei proprio ma che stai carinando Goten e levati alle scatole ok, va bene eh no tecca di questa non basta vediamo se oh basta bello ma mi ha fatto proprio arrabbiare ah mamma mia che ci è voluto così tanto non ci è ci è voluto così tanto ma è una maledetta zeta qua sopra sei volte l'ho fatto sei, sette volte questa era la settima continuiamo con un altro wow bene stesso avanzamento che deve venire con il pattugliatore bene mi keiser sono io ve lo dico bene controlliamo un po' le cose ho cambiato un po' di esupaggiamento roba varia mi sto messo un'altra superanima roba varia e qua se no sto caro becchi di questa mi piace dove parliamo parliamo più tardi ma ora ho bisogno di passare questo fottuto test ma no io un po' di esupaggiamento mi servirà oh e basta dai vediamo quale che un po' di esupaggiamento mi ha già pigliato dai becca di questa ehi no attenta le spalle attenta le spalle a dritto no questo fa male dai questo fa male bella devi andare a dormire pan no ehi no meglio trasformarmi se no qua io finisco male ehi per un periodo mamma mia per poco e no questo giaco l'odio l'unico personaggio che odio è questo come il mister satan e battene giaco ahhh e no ma tu sei un nulle facente non sai proprio niente si e no sei forte bravo ma non sai volare usi solo quelli archigeni come il tuo mister satan e no questo non va bene giaco va bene oh e no questo non va bene eh si lo so ma fammi un po' di tempo dai scusami per cosa meno male almeno appena in tempo beccati qui e no così non va bene ah beccati questa ah meno male si mi serve un po' di giga un po' di così e no arriva sto fottuto broly il falso il broly non canonico quello non è canonico bene grazie e no e per favore e per favore e no broly sei pazzo sei proprio pure omicida rispetto all'altro ma no broly e no avrei preferito per tutti no non mi dire ma come fa spezzata a guardia no fa spezzata a stabile questo piantala e no e ripigliate ripigliate non ho nulla per ripigliare no no beccati questa basta ma scocciata beccati questa un po' di cosa succede dobbiamo stare un po' da pari dobbiamo andare a pari e no allontanati sei tosto sei tosto sei piuttosto di qualcun altro di chiunque altro che abbia mai e no e sto vedendo a fiatone mi sto vedendo a fiatone a parlare con te e hai male e ma e bene grazie broli scusa scusa eeeh basta mi ha scocciato devo fare un po' sul serio eh ero stancato di prendere 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 e non riuscire a schivarle oh no ma come no no virus no mi spiace e no virus sta buono e attento ma che diami no no pure lui mi ha spezzato la stamina è la quarta quinta sesta volta che mi spezzano la stamina qua si meno 5 ore mi ha spezzato la stamina oh e beh vattene sparisci lasciami un po' respirare è bravo e no questo non va bene questo non va bene basta oh una la copiata in pieno toglia e no troppo tardi ma che che stava a fare questo che stava a fare sto in trasporto forse è becca di questa anche qualche pugno dai dai e no così non va bene ehi e virus lasciami respirando poco no ma è stancato appena avrò un po' di fiato in goal te faccio secco te lo dico te lo dico e dai e no ma basta ma basta ma basta e no bene grazie vedete che te lo faccio fuori basta beh ce l'ho fatta mamma mia mai ho studiato questa è il primo tentativo al primo al primo al primo tentativo al primo non ci credo non ci credo ma come è possibile al primo tentativo c'è un pigliato la z tutto fa togliatore ebbene ah finalmente e con questo è tutto noi ci vediamo al prossimo guardate voi direte iscrivetevi al mio canale se ancora non lo avete fatto lasciate un bel like e commenta qui sotto se ne vuoi un altro di questo con un altro personaggio ciao